Chiunque, intendo chiunque, saprebbe riconoscere una Porsche 911, al primo sguardo, è rimasta la stessa da sempre ed anche la nuova generazione, la nuova 992, non delude le aspettative. Inconfondibile lo stile da coupé, a due porte, con modifiche piccole rispetto alla generazione precedente. I fari in particolare, adesso con un disegno ad X all'anteriore ed un lungo elemento a led che unisce i gruppi ottici posteriori. La griglia, poco sopra, richiama le carriere degli anni 90 e mostra la luce dello stop posteriore. Lo scarico doppio è stato integrato nel paraurti posteriore. Le maniglie sono a scomparsa ad attivazione elettrica e sono integrate a filo nelle portiere. Il posteriore è dominato su tutti i modelli dello spoiler a regolazione variabile, significativamente più largo di prima. A parte le sezioni anteriori e posteriori, l'intera carrozzeria è poi realizzata in alluminio per mantenere il peso basso. Il motore turbo Flat 6 della 911 Carrera S e della 911 Carrera 4S genera 450 CV, che corrispondono ad un aumento di 30 CV in più rispetto al modello precedente. Giusto per farvi capire, queste due 911 restano sotto la soglia dei 4 secondi nell'accelerazione da 0 a 100 km orari. La coupé a trazione posteriore si ferma a 3,7 e la Carrera 4S a trazione integrale addirittura arriva a 3,6 secondi. Per entrambe la velocità massima è ben superiore ai 300 km orari. Nuovissimo poi è anche il cambio automatico a doppia frizione, addio al PDK a 7 marce, non senza nostalgia, e benvenuto al nuovo 8 marce prodotto da ZF. Porsche poi ha sviluppato una modalità wet, una particolarità, che fa parte della dotazione di serie. Questa funzione rileva la quantità d'acqua sulla strada, predispone di conseguenza i sistemi di controllo e avvisa il conducente, che può quindi utilizzare una guida più sicura. Il sistema di allerta e di assistenza alla frenata, che sono di serie, rilevano il rischio urti e quindi in questo modo la frenata di emergenza automatica può essere attivata se necessario. Poi c'è il sistema Night Vision Assist con termocamera, che è disponibile per la prima volta a richiesta sulla 911. Il cruise control adattivo a richiesta comprende il controllo automatico della distanza, la funzione Stop & Go, la protezione dei passeggeri e l'innovativa funzione autonoma Emergency Assist. L'abitacolo è completamente nuovo, si caratterizza per linee nette e tese del cruscotto. I modelli 911 dagli anni 70 del secolo scorso sono stati la principale fonte di ispirazione. Accanto al contagire centrale, tipicamente Porsche, due sottili schermi, senza cornice, forniscono le informazioni al guidatore. Lo schermo centrale del sistema di infotainment adesso è di ben 10,9 pollici e può essere gestito velocemente e senza distrarsi grazie alla nuova architettura software. Al di sotto si trova una centralina compatta, con 5 tasti che consentono di accedere direttamente a importanti funzionalità del veicolo. Dal punto di vista della digitalizzazione, la 911 fa un passo verso il futuro con la connettività permanente grazie alla connessione LTE. Nuove le funzioni e nuovi servizi come abbiamo già visto su Porsche Cayenne e anche su Porsche Panamera. La 911 Carrera S è un giocattolo per pochi, viene offerta a partire da 123.999 euro in Italia e la 911 Carrera S parte da 132.051 euro, inclusa IVA e anche le dotazioni specifiche. Inutile dire che la gamma si completerà in futuro con l'arrivo delle versioni più sportive, tra cui le mitiche turbo. Noi non vediamo l'ora di mettere le mani su questa nuova sportiva marchiata Porsche. Cosa ne pensate voi di questa 992? Avreste voluto qualcosa di diverso? Fatecelo sapere nei commenti e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ci vediamo alla prossima su DriveGay. Grazie a tutti. Grazie a tutti.